Macro categoria imprese, categoria comunicazione. Il premio è quello di CEO dell'anno Innovazione Leadership Comunicazione Integrata. Andiamo a leggere la motivazione. Per guidare una realtà dinamica con innovazione e originalità fin dal 1996, per supportare le aziende nel valorizzare le proprie eccellenze, fornendo loro strumenti e strategie di comunicazione mirate e su misura con l'obiettivo di accrescere il loro business per l'esperienza pluriennale e la capacità di rispondere alle esigenze del mercato con flessibilità all'interno di un settore in continua evoluzione. Il premio va a Leonardo Ristori, RGR. Ed è un piacere avere qui con me proprio lui, Leonardo Ristori, fondatore e presidente. Prego, si avvicini di RGR, questo è il suo premio, così glielo posso dare direttamente. Grazie mille, gentilissima. Bello. Grazie. Guardi quanto vuole e poi lo appoggiamo perché la invito ad accomodarsi. Lo mettiamo qua, grazie mille. Grazie mille. Peraltro io so che siamo colleghi giornalisti, quindi ci possiamo dare del tuo. Esatto, sì. Visto che la categoria di riferimento è quella della comunicazione, andiamo più diretti. Ti chiedo subito, Leonardo, cosa vuol dire, cosa significa per te questo premio? Allora, questo premio ti devo dire che è stato intanzitutto una sorpresa, una fortissima sorpresa quando intanto abbiamo ricevuto la prima telefonata che eravamo stati selezionati fra le aziende finaliste di questo premio e poi successivamente quando è arrivata quella assolutamente in attesa che eravamo stati scelti proprio noi. Il primo pensiero è andato subito inizialmente ai nostri clienti, ai clienti come Riel UPS, come Knauf, con cui lavoriamo da anni e con cui si rinnova ogni anno una partnership incredibile e anche ai ragazzi che lavorano con me e a cui mentalmente ho dedicato subito questo premio perché se lo sono veramente meritato, perché io gli complico la vita tutti i giorni con le mie idee e loro se la autocomplicano cercando di venirmi dietro e cercando di realizzarle. Cercando di realizzarle, esatto. Esattamente, esattamente. Beh, è un meccanismo però che porta alla valorizzazione poi di tutte le varie competenze, no? Si impazzisce per poi tirare fuori il mezzo. Assolutamente, assolutamente vero. E cosa vuol dire oggi, soprattutto alla luce anche di tutto quello che è successo quest'anno, il fatto che la nostra quotidianità sia stata, insomma, rimodulata, usiamo questo termine, cosa significa fornire strumenti ad hoc per valorizzare la comunicazione delle imprese? Eh, è un bel concetto questo. Quando è venuta la pandemia praticamente, quando è venuto quello che si chiama in gergo il cigno nero, quell'evento che sconvolge tutti gli equilibri, che disassa qualsiasi rendita di posizione che ci potesse essere sul mercato, praticamente si azzerano i rapporti di forza, anche le grandi aziende diventano vulnerabili, le piccole aziende possono acquistare forza o viceversa. E allora noi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi nella testa dell'imprenditore e abbiamo cominciato a realizzare una serie di iniziative che non erano più dedicate soltanto ai nostri clienti. Partivano dalla conoscenza dei nostri clienti, ma abbiamo sentito una missione come agenzia di comunicazione, quella di aiutare tutte le imprese, di qualsiasi tipo fossero, anche sconosciute per noi, a avere strumenti per interpretare la situazione. Quindi, per esempio, per dirne una, abbiamo creato Passione Impresa, che era un network fatto sui social, in cui abbiamo invitato una serie di professionisti, i nostri amici, noi abbiamo una grandissima rete di professionisti che ci aiutano e ci supportano, poi casomai dopo non spieghiamo il perché. Ecco, abbiamo preso questi e li abbiamo chiamati a rispondere alle domande concrete che avevano gli imprenditori. Un esempio fra tutti, c'è la cassa integrazione, non mi interessa andare a raccontare cosa dice il decreto dei conte sulla cassa integrazione. Aiuto l'imprenditore ad affrontare il problema della cassa integrazione. Come si sente l'imprenditore quando deve mettere in cassa integrazione i suoi impiegati, i suoi operai? Come si sentono le sue maestranze quando hanno la cassa integrazione? Come si affronta in modo, diciamo così, fisiologico il più possibile indolore questo problema? Abbiamo chiamato gius lavoristi, abbiamo chiamato psicologi a rispondere a queste domande, e così via, e così via, cercando di dare un'interpretazione umana della realtà che c'era. E' quello che ci si senta coinvolti, no? Quello che è un problema poi di tutti è che invece spesso viene derubricato come qualcosa di formale, di asettico, invece si deve caricare di altro, no? E come procederete da adesso in avanti, proprio alla luce di quello che è successo, facendo tesoro anche delle cose negative, però insomma senza perdere gli orizzonti più ottimistici, no? Credo che sia la cosa di base. Assolutamente, beh, diciamo che noi partiamo da questo approccio, da questo modo di porci sul mercato, e lavoreremo e faremo moltissime altre iniziative che vadano a risolvere i problemi concreti degli imprenditori, dei manager e di tutti quelli che lavorano nell'impresa. Un esempio per tutti, a settembre, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati in controtendenza, avevamo, sapevamo che ci sono i marketing manager che devono decidere, allocare il budget per l'anno successivo, ma spesso e volentieri sappiamo perfettamente che ai marketing manager mancano strumenti concreti, dati numerici per decidere che cosa fare. Ci siamo resi conto, da un'altra parte, che per esempio il volantino cartaceo non è quella cosa così obsoleta come si pensava, ma è invece una cosa che funziona ancora tantissimo. Abbiamo fatto una ricerca di mercato, abbiamo intervistato 2000 famiglie, abbiamo scoperto con i numeri qual è l'efficacia di questo strumento e poi gli abbiamo regalato questi dati a tutti i marketing manager italiani. È una cosa che abbiamo deciso di fare perché loro potessero gestire il loro budget in base a dati concreti che nessuno gli aveva dato fino a ora e non sulla base del fatto che, ok, il digitale va bene, la carta va male, allora tutti sul digitale e poi si prendono delle grandi... No, no, ma è un po' il conubio tra tradizione e innovazione che bisogna sempre mantenere. Se si riesce a fare quello, c'è il plus, senza abbandonare le radici adesso se vogliamo. Assolutamente. E poi continueremo nell'ottica di andare dietro praticamente a, come si può dire, a sfruttare il... più che a sfruttare, diciamo così, a dare spazio anche alle emozioni degli imprenditori come quello. Eh ma infatti, guarda, adesso voglio azzardare una cosa sui senti. Perché? Ovviamente per premiare le eccellenze come la vostra, io cerco in qualche modo di entrare un po' nel merito, no, delle realtà e di quello che fate, credo che sia abbastanza ovvio e scontato, o meglio, non ovvio e scontato, però doveroso, ecco, questa è la parola migliore. Però quello che voglio azzardare è questo, cercare di aiutare con degli strumenti di comunicazione imprese o singoli, credo che si possa racchiudere tutto in quel libro che tu hai tra le mani. Se te lo vuoi passare, io ti lo mostro, costi quello che costi, perché c'è una dedica che hanno fatto proprio a te, la tua penna mi ha dato un grande aiuto, mi ha permesso di portare in giro una storia vera, la storia di un semplice networker che un giorno disse a se stesso, costi quello che costi, ce la farò. E così è successo, grazie Leonardo, questo è il libro. Perché tu hai dato la possibilità di comunicare qualcosa che da solo, probabilmente, questa persona non sarebbe mai riuscita a comunicare. Giorgio Burgarassi è un imprenditore di successo, oltre che sono onorato e orgoglioso di poter dire che è anche un amico, e che ha creato da zero un'azienda che fattura decine di milioni di euro, ma non solo questo, un'azienda che è di network marketing e durante il lockdown, attraverso il network marketing, ha dato a decine di migliaia di famiglie la possibilità di avere da questa attività un reddito aggiuntivo. Quindi una persona splendida, però aveva un sogno, e il suo sogno era quello di scrivere un libro dove poter raccontare, condividere, perché lui è una persona che condivide, condividere le sue esperienze. Mi raccontò il suo sogno e gli dissi, va bene, realizziamolo. E l'abbiamo realizzato, l'avete realizzato. Eccolo qua, l'abbiamo realizzato e quindi questo è il frutto di questa cosa. Costi quel che costi. Costi è quello che lui si disse il giorno che decise di fondare l'azienda. E allora, costi quel che costi, bisogna guardare con ottimismo al futuro quello che state facendo voi, quello che hai fatto tu, Leonardo. Quello che sta facendo le fonti Howard con questa cosa che è assolutamente meritevole. Anche noi cerchiamo sempre di farlo, assolutamente. Grazie, grazie mille. Leonardo Ristori, ricordiamo, RGR, CEO dell'Anno Innovazione e Leadership Comunicazione Integrata. A questo punto, stai pure seduto ancora qui come così, parliamo ancora un po' della vostra realtà, però puoi guardarti quanto vuoi il tuo bene. Grazie mille, grazie mille. Ciao, grazie. Grazie a tutti.